Signore e signori, benvenuti su Witch It con Aaron Blaze Salve Tearless Raptor Stavo provando ad imparare la sigla delle Witch ma non riesco, ciao E' proprio questo il momento E c'è anche Tizio Venti Escarebai E oggi siamo qui con Witch It Un gioco che è già abbastanza popolare So che molti di voi lo conoscono Ma non l'avete ancora visto portato da noi Spicy Boys Quindi siete pronti a giocare, a nascondervi ragazzi? Sì signor Capitano Iniziamo Per chi invece non sapesse come funziona Witch It Praticamente è un hide and seek Ovvero un gioco a nascondino Una parte di noi farà la strega L'altra parte il cacciatore, cioè uno solo Farà il cacciatore e noi dovremo nasconderci Andando ad impersonare degli oggetti nella mappa Il cacciatore dovrà trovarci Risate assicurate boys Io vado a fare la strega per questa prima partita Io sono già un cacciatore Fai tu il cacciatore qui? Sì 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 Grande Vado a stregarmi anch'io Adesso venga a fare la caccia Mi hai proprio stregato Ok si comincia Bella zizio Ma c'è un portale Ma cos'è il portale di Fortnite? Magari c'è un rift come su Fortnite Attenzione Titolo assicurato Io voglio diventare questo Aiuto non so che cosa diventare Dani guardami Dove sei? Sono qua dietro sto arrivando rotolando pian piano Ok ma io devo nascondervi ancora Muoviti coglioni Sto arrivando Ok Guarda mi Dani sono un cocco di mamma Ok spero che il nascondiglio sia adatto Qui c'è il mio gemello a fianco quindi non lo so Ma Tiar Dove siete? Dove siete? Dove sei? Dove sei? Dove siete? Ok eccolo Vero Chiamalo Patrick Chris Cosa vuoi? Dove siete? Sai perchè galleggi? Perchè sei uno stronzo Non sai che sei una barca Ma hai detto che sono una barca E' figlio di puttana Eh te sono Patrick Una barca? Una barca No non è una barca ora è una scheggia di ghiaccio Non lo dire Eren gioca in squadra con noi E' uno scroto ambulante Eren Blaze Ma cosa sono quelle croci verdi che girano lì? E' Gesù Dani! Che c'è? Scappa Scappa Oddio 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 No 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 mi sono cambiato mi sono cambiato non mi troverai mai adesso Vedo una stellina stellina Nooo Guarda vedi questa cosa qui è Tiar questo è Tiar prendetela con lui Eh ma ero sei proprio stronzo eh ma lasciami in pace Ciao Teresa Aia Io me ne vado me la squaglio actually Dani! Che c'è? Ma chi è questo? Eren Blaze di odio Eren Blaze di odio tantissimo No! Sono Teddy Sono Teddy l'amico di Mr. Bean lasciali stare Dove sei? Aiuto! Ah io sono Eccolo E' diventato un pallet di legno E' mai chiederebbe te Ciao Come stai? Bellissimo Che cazzo? Chris vai al diavolo No vabbè Sto vedendo i miei occhi Ma cosa? Chris lasciami stare Lasciami Vai cammina Ma è troppo lento È troppo lento Sei cazzo Ok Ok Vieni con me Entra nella casetta Chris sei un maledetto Lasciami stare Nella casetta Entra nella casetta qua Ecco dito al bancone c'è un ananas che vola Quello è Eren Sei andato sei andato Che pezzo di merda Ma dai che pulpito Hai proprio schifo al cazzo Vergognati Chris mi metti l'ansia comunque Ho il cuore che mi batte E' entrato nel rift Entra nel rift E' nel rift Sì Ma dai Ma basta Mi l'ho tradito due volte Dove siete? Dove siete? Dani Vieni qua Vieni qua Eren Eren Eccoli Non puoi dire Io rimango bene Non posso tradire anche Dani Dani non è come Tear Ho visto qualcosa muoversi qua Chris è matì Cos'è i fuochi? Cos'è i fuochi? Cos'è i fuochi? Cos'è i fuochi? Sì 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 Mamma mia Mi switchavo di continuo Ma Raga abbiamo vinto nonostante vi siete traditi a vicenda di continuo No tira il calciatore no mi mette l'ansia Ecco Ok Via 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 Raga non venite a rompermi le scatole che ogni volta ci nascondiamo tutti insieme E quindi trova uno trova tutti Ehi Io voglio fare lui Mi metto No non ti ribaltare Vattene Non ti ribaltare Non ti ribaltare Ok 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 Qui 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 sono al sicuro Nice nascondiglio E si parte Ciao Eren ti vedo Oddio ma che cavolo Pensavo che apriera la porta sei riuscito all'esterno invece no No tira ma devi stare alla larga Ragazzi io farò tre minuti immobile Ah ho sbagliato porta per forza Guardate tira che vola col rampino quanto fa ridere Dove sta Perché tu lo vedi io o no Forse è più della tua parte Eccolo Eccolo Perché in realtà l'ho detto dopo Eccolo Eccolo lo vedo E' il cacciatore cioccialone Ma poi giusto perché Chris cosa fai ancora da strega Ha lanciato i funghi Guardalo col rampino che si sposta Chris vai via da lì Vai via da lì Come fai ad essere così in alto Guarda Eren che sta l'immobile dall'inizio della partita No ora mi sposto Pure io dovrei Christopher No Aiutelo Cazzo è qui Dove è finito Chris? No laga ho perso il cileno Oh oh no non l'ho perso il cileno Lo vedo più di prima Dani sta un po' fermo però Ah what? No Ah Ah li ho fatti i funghi Gli ho fatti i funghi Erano i miei i tira non erano di Chris E ora me ne scappo come un capo Addio tira Dove sei finito l'Arzo E' l'Arzo Dove sei l'Arzo? E' l'Arzo Facciamogli una combo di funghi Aia Tiar ti piace il mio passato di funghi champignon? Mamma mia buonissimo Però se ci fossero un po' di lintichie Tiar vuoi un indizio su dove mi trovo? Tiar lo vuoi un indizietto? Vai Hai mai visto il film Frozen? No Chi è il personaggio più simpatico di Frozen? Non è mica quel dannato pupazzo di neve maledetto di nome Olaf? Ah pensavo fosse Sandokan No Cosa stai facendo tu che vuoi? Aiuto Mi stai servendo Ti ho detto Olaf Tiar ti ho detto Olaf Ancora non riesci a capire Sto sparando i pupazzi di neve Che cazzo? Non ha quelli giusti Non ha quelli giusti Dai smettetela di farmi tiltare Laga che io... Va bene ho capito Se tu non vuoi andare da Olaf verrà Olaf da te Eren Seguimi Tiar Succhiami il carotone Dove sei Olaf? Non so dove tu sei Ora tipo faccio lo spavaldo che mi mancano 12 secondi Eccolo Ok Oh mio dio Ti salvo io No 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 mi sono cambiato al volo 5 4 3 Ciao Tiar Ciao Tiar 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 All'ultimo All'ultimo proprio Maledetto 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 Adesso il cacciatore è Eren Eren Oh no Sono pronto E ho un nuovo potere da usare Ma giochiamo nel cimitero raga Eh? Oh mio dio Scudini scudini Io voglio essere lui Voglio essere lui Aspetta mi vado a mettere vicino al mio amico Io sto sbirciando dalla porta Mettiti bene Mettiti bene Mettiti bene Un po' si può sbirciare No Ok Ok così va bene Ah sono sci Così va bene così va bene Bravo non guardare Non guardare Non guardare Tiar ti vedo un po' indeciso No Ma Chris tu la devi smettere di rimanere così sul Non lo dico Ormai lo so Lo so per colma tua Eccolo In realtà l'avevo già visto da prima Ecco Dove sei andato un maledetto? Mi fai perdere sempre tempo Ma io mi voglio nascondere un po' meglio tipo qui Ecco così Così non mi... Dove sei? Ehii Qualcuno è stato sparato? Oh oh Guarda Chris che vola come strego Eren girati Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Vedo che c'è qualcuno lì Come funziona questa cipolla? Oh no Oh no Oh no Oh no Funghi Funghi? Oh no Oh no Oh no Io prote... Ah! Aiuto! L'ho preso L'ho preso Non mi sono lo switchato Vabbè ma cos'è raga? Ma cos'è sti funghi? Dove cazzo sei? Ok Eccolo Ah ce l'ho fatta Sono il maestro dei travestimenti Sei un travestito sei tu Basta questi funghi No vabbè cosa sono diventato Dov'è Eren? Dov'è Eren? Ma ora? Dov'è Eren? No no Quando la caccia ha delle persone in Mary Chris Quando non lo vedo Quando non lo vedo... Eccolo Vabbè Io raga sono troppo sgavabile Perché sono in una posizione innaturale Ecco E non mi ha visto E non mi ha visto E non mi ha visto Ero il martello Ero in una posizione mega innaturale Ero in una posizione mega innaturale Ero un martello in piedi nel mezzo dell'uno Vattene Chris Vattene Aia Ho uno di vita Yes Funghi Quanto mi piace fungare raga Me ne scappo via No 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 Dov'è andato? Vabbè Tronzo Guarda mi metto qui Mi metto qui vicino al mio amico Ecco qua non mi scaverà mai Ma c'è la galleria qua sotto? Sì Mi sono le catacombe raga Oh no Andate sotto non vale Oh no 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 voglio vedere dove sei Sei bellissimo Qui? Sì sì ti ho visto Rimani Sì 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 proprio easy Ma prima è passato Ero il martello e non mi ha visto Chris Chris la devi smettere Dov'Eren? 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 Non lo so È dall'altro lato È vicino all'arco Sta arrivando No E streghe viccono Funghi Boing Ragazzi adesso faccio io il cacciatore Dai allora Hai 5 secondi per Ok faccio cipolla e rampino Ragazzi siete pronti ad essere scipollati? Come è la cipolla? Divento il peggio che babbaro Cipolla no cipolla Cipolla no cipolla Cipolla no cipolla Bah! Oh con sti funghi eh! Preparare il sugo Non ci iniziamo No! No! Non volevo andare di là Ragazzi È il momento della nomination Sì Alessia Alessia Dove cacchio siete? Dov'Eren The Lords? Dlords? 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 Ah di prega Guarda siamo tutti qui che lo osserviamo dallo stesso punto Il formaggio a volante Vieni qui strega Nooo sono tutto confuso Mi piace che Chris ne ha chiede che Dani non Aia Formaggio! Formaggio! Nooo Sono io il formaggio No Dlords Gigi formaggino Tieniti questo molo Nooo Che cavolo era quello? Buca il jobs care Dove który Oh oh oh! Ehi hey Ehi 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 Oh In cosa ti sei switchat? Ti ho visto No, non sono io, non sono io Via, 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 via Seguimi, seguimi, Eren Non sono andato da un'altra parte Seguimi, salta via Mi salvo, mi salvo, easy Dove siete? Ragazzi Non vi, Alessia Ho detto che è il momento della nomination Ma oggi eliminiamo tre, non solo Tier Oh, fuchi, fuchi Fuchi Vieni subito Minchia, Dani, che mira, però Eh, lo so Ciao, sono dietro di te, lol Barile Eh, sono sopra di te Sono sopra di te No Non ho la lanterna, Dani Io ho colpito l'altra lanterna Dall'altro lato, perché l'avevo troppo intuito Mannaggia, Eren T'avevo colpito pure prima, quanta vita ti era rimasta Ok, ragazzi, questo era il nostro Primo video su WeChat Ovviamente uscirà anche sui canali degli altri Vi raccomando, un bel mi piace se volete altri video su WeChat Perché secondo me Con questo gioco possiamo proprio dare il massimo Del trash Giusto, ragazzi? Vabbè, l'abbiamo visto Per me si può sempre fare di peggio Appunto Quindi Un bel mi piace Per altri episodi Ancora peggiori di questo Io per oggi vi saluto E noi ci vediamo Alla prossima Nascondinata Bye bye Alla prossima Grazie.